Agosto è passato e la data ultima per fare il punto sul percorso del Tribunale della Pede Montana è stata superata. La sindaca Elena Pavana ha scritto al ministro Carlo Nordio ma in attesa di novità da Roma il territorio si muove ancora una volta per il suo tribunale. E così martedì arriverà nell'aula del Consiglio regionale una proposta di legge statale per la riapertura di alcuni tribunali chiusi nell'ormai celebre riduzione di qualche anno fa. Primo firmatario e relatore sarà il vicepresidente del Consiglio Veneto Nicola Finco. Come Regione del Veneto, come Consiglio abbiamo deciso di presentare un progetto di legge statale proprio che vada nella direzione di altre sette regioni a livello nazionale che chiedono sostanzialmente al governo di rivedere quella che è la geografia giudiziaria che è stata approvata ancora nel 2012. La proposta è firmata anche dal capogruppo della Lega in Consiglio Alberto Villanova e da Enoch Soranzo di Fratelli d'Italia. Ha conferma che il progetto è condiviso in modo politicamente trasversale e che interessa tanto il Bassanese quanto la marca trevigiana e l'alta padovana. Approveremo questo progetto di legge che inizierà poi un iter a livello parlamentare assieme agli altri testi e mi auguro assieme anche a una nuova geografia giudiziaria che sarà portata avanti proprio dal governo proprio per chiedere ovviamente l'apertura del nuovo tribunale della Piedemontana. Il territorio ha già detto la sua politicamente sul versante del lavoro, tutti compatti per il nuovo tribunale. La palla passa al governo e al Parlamento che speriamo quanto prima metta veramente in risalto il lavoro fatto dal territorio ma soprattutto ci permette di riaprire questo importante edificio che è fondamentale per le imprese e per i cittadini del nostro territorio. La battaglia per il tribunale quindi è ufficialmente aperta ma sono in molti a chiedersi perché Bassano che fino a qualche anno fa era addirittura impredicato di diventare capoluogo di provincia debba lottare ogni giorno con i denti e con le unghie per non perdere servizi. È un territorio che da tanti anni purtroppo deve lottare per mantenere dei servizi essenziali per la popolazione. Stiamo parlando di un territorio molto importante, non siamo alla periferia dell'impero ma siamo uno dei centri produttivi più importanti del Veneto e del nord-est. In questa partita finiscono temi di primaria importanza compreso quello della sanità. Fino a qualche settimana fa parlavamo addirittura del commissariato di polizia, oggi grazie all'interessamento del ministro Salvini sono stati stanziati i fondi per realizzare il nuovo commissariato ma c'è il problema dell'archivio di Stato, c'è il problema dell'ospedale che negli ultimi mesi ha visto ovviamente qualche difficoltà e sul quale ovviamente bisogna riportare l'attenzione dell'intero territorio. Una battaglia che non è solo di Bassano è di un intero territorio e come dice il vecchio adagio l'unione fa la forza ma divisi ci si fa male.